le condizioni di oggi sono state con vento particolarmente crescente 8 10 15 16 fino a 22 sono state tre belle prove sì sì noi con tutte le condizioni del vento trovavamo la barca molto bene ci piaceva come piace a noi e niente il punto di forza primario di questo equipaggio il feeling più che altro cioè magari qualche volta ci urliamo ma non per cattiveria ma per spronarci come nasce questo equipaggio nasce che un anno e qualcosa fa il nostro allenatore attuale ci chiede se volevamo provare 420 visto che avevamo smesso tutte e due la classe optimist e noi abbiamo accettato siamo usciti la prima volta abbiamo scuffiato naturalmente cinque volte però da lì in poi è nato il nostro equipaggio e adesso siamo qui l'ultima domanda è qual è l'obiettivo per questo 2020 per il vostro 420 per questo 2020 il nostro obiettivo è prima di tutto fare tutte le nazionali ossia le selezioni per i mondiali europei molto bene e quindi qualificarci per i campionati e quindi andare al mondiale europei e andare anche quelli bene questi risultati sono frutto di un grande allenamento che ha visto progressi durante tutta la stagione partendo sempre da dare il massimo ogni volta che si esce in mare cercare sempre di cercare la massima velocità e il miglior metodo per allenarsi cosa contraddistingue questo campo di regata questo campo di regata oggi era era caratterizzato da una grossa la terra faceva una grossa differenza soprattutto nella direzione del vento e nell'intensità anche se abbiamo visto che a largo c'era un grosso temporale che spingeva il vento e faceva sì che che l'intensità fosse alta cosa significa far parte del circolo vernazzolesi ma per il circolo vernazzolesi è un bel circolo che dona molta è un circolo molto caloroso molto 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 bella anche a livello di gruppo c'è un bellissimo gruppo formato tra noi ragazzi e fa sì che i risultati siano migliori anche visto che lo sport è la vela essendo uno sport molto molto che conta molto la testa è importante anche il gruppo e la e divertirsi nonostante cercando sempre di dare il massimo quale valore ha nella vostra preparazione stagionale questa manifestazione tanto perché è una manifestazione in cui c'è sempre tanto vento c'è tanta gente anche di alto livello e quindi proprio ti metti alla prova magari chi ha iniziato quest'anno è subito la prima regata importante a seria e ti mette proprio la prova si tre prove oggi quest'equipaggio insomma subito varie modifiche sì perché io poi sono stato male e quindi abbiamo avuto un cambio con lei e niente siamo riusciti comunque a svolgere tutte le tre prove con una barca il vostro equipaggio come l'avete costruito è col tempo dall'anno scorso ci siamo mano a mano uniti e adesso siamo io e l'equipaggio ma l'amore per la vela quando nasce? per me è andato fin da piccola anche se ci sono stati sempre degli alti e bassi però la passione rimane e non si può fare a meno di non venire in mare e uscire con tanto vento poco vento oggi abbiamo avuto la fortuna di recuperare una giornata non troppo buona di ieri perché eravamo partiti con una prova poi abbiamo dovuto annullare ma oggi direi che il tempo ci ha gratificato perché siamo partiti con una prima prova con 10-11 nodi e successivamente abbiamo avuto una seconda prova con 15-17 addirittura la terza prova siamo arrivati a 23 nodi e quindi con una costanza di vento che ha messo a dura prova gli equipaggi che quindi hanno iniziato direi bene la stagione che in Liguria si regata tutto l'anno lo dimostrano anche i numeri di questa manifestazione beh sì diciamo che siamo abbastanza contenti avendo un buon numero di 420 e di laser e soprattutto abbiamo degli equipaggi di punta cioè abbiamo sia nei 420 che nei laser una parte di equipaggi che sono nei primi 10 in Italia quindi questo gratifica sicuramente il livello della manifestazione un calendario che in questo primo semestre ma non solo ma in particolar modo in questo primo semestre sarà ricchissimo di eventi sì Winter Contest avrà questi due weekend su 420 e laser poi avremo gli Optimist che faranno due weekend sul Winter Contest e subito dopo seguirà la Kinder Cup successivamente Coppa dei Campioni che è alla finale per l'altura di tutti i campionati invernali quindi l'elite diciamo i primi tre classificati di ogni classe su ogni campionato si sfideranno per il vero campione Ligure successivamente arriveremo a livello del campionato mondiale perché avremo le World Series su Genova che quest'anno assumono ancora più grande importanza in ragione del fatto che sono le ultime classificazioni per le Olimpiadi di Tokyo Un dispiegamento di mezzi enorme per queste manifestazioni che vede la prima zona, il Yacht Club italiano, i circoli velici genovesi impegnati veramente a 360 gradi Sì, oltre a questi già nominati avremo anche l'intervento di vari circoli importanti dai circoli del Tiguglio e lo Yacht Club Sanremo quindi in realtà tutta la prima zona a questo punto viene coinvolta in questa grande manifestazione proprio per dare onore e sostegno a questo grande evento Grazie a tutti Grazie a tutti